Si è insediato questa mattina il nuovo capitano della compagnia carabinieri di Agropoli, Fabio Lagarello, 28 anni, comandante del secondo squadrone del quarto reggimento dei carabinieri a cavallo di Roma, in carico che ha lasciato però per assumere il comando nella cittadina agropolese. Una donna dal sorriso dolce, disponibile, ma anche molto decisa, si è presentata infatti così alla conferenza con gli organi di informazione del territorio. Sono molto contenta di questo incarico prestigioso che mi vedrà alla guida della compagnia carabinieri di Agropoli, ha dichiarato alla stampa Garello. Siamo al lavoro per continuare il progetto avviato dal capitano Manna e come punti principali sarà svolto il controllo al territorio da un piano preventivo e soprattutto da un piano repressivo, per quanto riguarda i reati di genere, in particolare comunità al cittadino. Sono molto contenta di essere qui, è il mio primo incarico nel Cilento, lavorativamente parlando, ma anche a livello personale non c'ero mai stata. È un privilegio, sicuramente un grande onore essere il primo capitano donna, comandante di questa bellissima compagnia. I primi ordini sicuramente riguarderanno la presenza sul territorio, quindi una presenza capillare dell'arma sul territorio attraverso diversi servizi esterni che saranno effettuati, come già lo sono d'altronde, sulla maggior parte del territorio contemporaneamente. L'esperienza del personale, gran parte appartenente a questo territorio, può essere sicuramente un punto di partenza e un grande vantaggio, io credo. Quindi questo sarà sicuramente un aspetto da valorizzare maggiormente e che potrà andare di pari passo con l'attività già in atto. Qual è il messaggio che vuole lasciare ai cittadini di Agropoli, ma anche del Cilento? L'arma dei carabinieri c'è, è presente. Noi ci siamo, quindi per qualsiasi tipo di evenienza fate riferimento ai carabinieri, nelle loro stazioni, nelle caserme, nella compagnia, anche sul territorio, nelle pattuglie che incontrerete a mano a mano.